Continua la triste conta delle vittime della pandemia covid in Puglia. Sono 30 i morti registrati nell'ultimo bollettino epidemiologico della regione. 11 sono relativi alle ultime 24 ore e 19 riguardano i giorni precedenti. Un bilancio pesantissimo che porta a 7.501 le persone decedute a causa del virus dall'inizio della pandemia. Restano intanto stabili i contagi in Puglia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4.366 nuovi casi su quasi 28.000 tamponi. Nuove positività che sono così distribuite. 1.173 nella provincia di Bari, 1.112 nella provincia di Lecce, 804 in quella di Foggia, 538 in quella di Taranto, 367 nel Brindisino e 322 nella BAT, oltre ad una cinquantina tra residenti fuori regione e quelli in via di definizione. Stabile anche la situazione negli ospedali pugliesi. Al momento sono 723 le persone ricoverate in area non critica, meno 4 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 66 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, più 2 nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Puglia, che sono poco più di 91.000, dato naturalmente influenzato dall'elevato numero di guariti vicino alle 600.000 unità.